Cosa si fa in mezzo a tutta questa gente? Cosa si fa in mezzo a tutta questa gente? Cosa si fa in mezzo a tutta questa gente? Cosa si fa in mezzo a tutta questa gente? Cosa si fa in mezzo a tutta questa gente? Cosa si fa in mezzo a tutta questa gente? Cosa si fa in mezzo a tutta questa gente? Cosa si fa in mezzo a tutta questa gente? Cosa si fa in mezzo a tutta questa gente? Cosa? 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 Cosa?